Buongiorno ragazzi sono le 10.37 di un 22 novembre 2022 molto piovoso sono Giacomo e diventerò milionario in cinque anni oggi parliamo di un paio di cose infatti siamo qua tranquilli mia figlia è tornata all'asilo quindi abbiamo tutta la nostra routine bella bella e cosa è successo per prima cosa intanto vi condivido una non so un comportamento che penso stesse andando dimenticato perché anche io effettivamente non ho più l'usanza di farlo no e semplicemente è telefonare alle persone per esporre i propri dubbi in particolare non le persone non agli amici ma ai commercianti adesso vi vado a spiegare cos'è successo in sostanza come sapete io vado sto andando a legna quindi scaldo casa con la legna tutta la casa tra l'altro perché è una cucina che insomma funge da caldaia quindi la legna brucia fa fuoco e scalda l'acqua che gira per tutti i termosifoni di conseguenza ad ora non ho ancora mai acceso il termosifone e la caldaia e l'obiettivo finale è quello di non accendere mai per tutto l'inverno chiaramente l'ho visti i rincari allora io e mia moglie ci atteggiavamo sì la bolletta chissà che bolletta sarà sarà di 20-30 euro eccetera eccetera se non che c'è stato un problema ovvero il nostro fornitore di metano ha cambiato si è fuso con un altro fornitore di conseguenza non ho potuto fare l'autolettura e questo mi ha portato ad avere in sostanza una bolletta di ottobre solo di ottobre di 300 euro e appena l'ho visto che palle ragazzi perché è veramente una rottura ok che poi quando vai a fare l'autolettura ti tornano perché vedono che hai consumato meno te li ridanno te li accreditano in conto però comunque tirano fuori 300 euro così e poi riaverli un mese due mesi dopo è sempre fastidioso che poi magari sai quanti te ne li danno magari te ne danno un po' meno eccetera eccetera è sempre meglio non tirarli fuori subito no tirarli fuori up front come come diciamo noi inglesi quindi cosa ho fatto mi sono un po' lamentato con me stesso con la vita col mondo ho detto beh ma chiamiamo cioè chiamo il tipo il tipo l'azenzia e chiedo cosa possono fare no chiedo se c'è non ero non mi aspettavo che non mi facessero la fattura ma almeno di capire come fare per riprendere a fare l'autolettura eccetera eccetera sono qua telefonato e sto tipo qua guarda la mia cartella e fa no beh cioè guarda 300 euro di bolletta che non hai consumato non esiste assolutamente no te l'annullo subito e poi ne facciamo un'altra del valore adatto no quindi questa cosa mi ha veramente stupito mi è piaciuta un sacco perché perché se cioè almeno parlo per me poi non so se è un comportamento diffuso magari fatemelo sapere sul gruppo telegram ma diventerò milanapuntigilast telegram e non è che spammi il gruppo perché voglio avere iscritti ma semplicemente mi piace avere una discussione riguardo ai miei dubbi quotidiani che magari poi sono anche vostri magari no però magari sì quindi è sempre interessante appunto non so se sia una cosa condivisa il fatto di ricevere una fattura e dico dai me lo sbattico io ne la pago tanto poi mi ritornano indietro e è morta lì piuttosto che dire no beh aspetta vado a fondo di sta cosa qua anche perché riflettendo quanto quanto ce l'ho passato il telefono col tipo un quarto d'ora 10 minuti 10 minuti non dico che ho guadagnato 300 euro però quasi in sostanza non devo più tirarli fuori anche se poi appunto mi torna no però ho avuto un guadagno per 10 minuti non è per niente male volendo dare un un valore al proprio tempo no però questa cosa qua non so se mai l'avevi fatta qualche anno fa oppure quando non avevo problemi particolari di soldi no non perché guadagnassi tanto ma perché avevo stipendio che diceva 300 euro sto mese ma era lo stipendio ripago va bene morta lì invece quando un po hai più e più necessità inizi a essere un po più accorto e rompere un po più i coglioni giustamente quindi volevo anche sapere appunto da voi se come avreste reagito sapendo appunto che poi alla prima autolettura buona te lo riaccreditano cosa avete fatto avete chiamato come ho fatto io o no e comunque volevo anche dirvi che appunto le bollette si possono annullare e e voi non dovete pagare nel caso vi fosse successa una cosa del genere sapete che è fattibile quindi molto molto bello non me l'aspettavo però perché non me l'aspettavo perché diciamo che stiamo andando perdendo questo contatto umano della telefonata ormai tutto tramite autorisponditori chatbot sticazzi via mail eccetera parlare con qualcuno e averlo la sua attenzione per 10 minuti un quarto d'ora è veramente merce rara ma e risolvi subito i problemi però non è come una mail mandi ti rispondono dopo due giorni ti chiede un documento gli lo mandi non va bene questi cazzi poi il personale in ferie e avanti così no telefono e risolvi punto figata bellissimo così chiaramente non è scalabile perché se questa invece che questa azienda fosse stato amazon non è che posso telefonare o forse mi chiamano loro tra l'altro amazon ho fatto l'esempio sbagliato perché loro sono cliente centrico quindi quello proprio no però tipo un apple ma forse sì forse mi sto facendo troppe seghe mentali ecco magari non lo so fatemi sapere se mi sto facendo seghe mentali o se effettivamente o forse le grandi aziende hanno capito questa cosa quindi stanno dando più attenzione al cliente oppure no ma insomma aspetto questo procedimento di riflessione sul gruppo telegram seconda cosa che mi è capitata è che come sapete sabato c'è il l'aperitivo a milano no e io bel bello voglio andarci con la mia golf no se non che piccolo problema da mercoledì scorso ho finito il pieno e ho detto vado andando a fare il pieno vado parcheggio la macchina in garage e boh torno a casa giorno dopo scendo apro garage odore di metano incredibile ho detto cacchio cos'è successo qua se non che mio papà sta facendo lavori sulla casa qua vicino magari stanno tagliando qualche tubo magari è successo qualcosa appena lo vedo glielo dico che risolvano non è che avevo dato la colpa alla macchina arriva su e mi fa no guarda qua assolutamente non passano tubi del metano di nessun tipo passa solo quello dell'acqua quindi non è possibile che sia quello però mi fa guarda che la tua macchina va a metano quindi magari è quello il tuo cazzo sai che può essere che abbia ragione allora ho passato un'altra notte il giorno dopo c'è ancora spuzza ma spuzza pesante proprio si sentiva e al giorno dopo l'ho tenuta fuori per vedere se effettivamente il garage rimanesse pieno di metano oppure no anche senza macchina e giorno dopo chiaramente non c'è l'odore di conseguenza è la macchina e due palle anche perché perché finché tu hai un tagliando che devi fare ogni anno va bene perfetto so che arrivo la so che mi cambiano l'olio quello che c'è da cambiare la spesa è sempre quella bene quando invece vai in un'officina con un problema tipo la mia macchina perde metano non è che ti danno ok due ore una guarnizione te lo risolvo no il problema può essere mille e ancora mille quindi questa cosa un po mi preoccupava perché appunto portarla la e tra l'altro in questo periodo che sono incasinatissimo con impegni mi serve assolutamente la macchina però non voglio esplodere quindi devo trovare un po un compromesso no mi vedevo già portarla la a dire cavoli tra ridiamo fra non so quanto controlliamo e poi non me la ridavano più in realtà stamattina ho telefonato al meccanico e mi fa guarda può essere che col serbatoio vuoto e con la bassa pressione ci sia una fuoriuscita di metano ma non c'è nessun problema fai un pieno e vedi come va col pieno no e ho detto ah ma non rischio di saltare per aria perché c'è cavoli perde metano la mia prima riflessione assolutamente non fare metano assolutamente usa la macchina meno possibile mi fanno no guarda non salti per aria vai tranquillo fai un pieno e vedi se perde ancora metano poi ci riflettiamo quindi una cosa veramente tranquillissima mi ha rilassato e comunque se non mi sentite più o se mi vedete esplodere mentre arrivo a verona sappiate che un meccanico mi ha detto che potevo fare il pieno tranquillamente e da parte gli scherzi è bello perché appunto anche in questo caso mi sono fatto tranquillizzare da una persona che ne sa e che mi ha detto guarda non c'è nessun problema perché raramente le persone prendono una posizione a meno di non essere super convinta cioè non è che tu puoi dire a uno vai tranquillo fai il pieno di metano e non sei convinto del fatto che lo salti per aria quindi il fatto che me l'abbia detto mi ha veramente un sacco di tranquillità riguardo però appunto mi è piaciuta questa mia riscoperta dell'essere umano e del e della facilità con la quale puoi risolvere problemi quando entrambi sono ben disposti a ad affrontare questa cosa in tranquillità quindi fatemi sapere se anche voi avete delle delle riflessioni del genere perché sono assolutamente interessato a a sentire la vostra detto questo andiamo al fulcro dell'episodio che in realtà ormai è un episodio di 8 minuti e 20 però la cosa bella è che appunto la giornata di ieri sebbene sia iniziata male è continuata alla grande perché appunto con l'arrivo della suocera e col fatto che mia figlia non ha dormito il pomeriggio ho dormito la sera e si è dormitata presto sono riuscito a produrre ben e dico ben tre articoli sul blog che è una cosa record del mondo che avevo uguagliato solamente un giorno ma perché avevo pubblicato uno prima di andare a letto tipo a luna di notte e il giorno dopo ne avevo scritti due in questo caso ero scritti tre tipo dalle 10 alle alle 11 di sera quindi bellissimo e però c'è una cosa che mi turba un po che vi vado a condividere perché adesso che sto non so neanche se l'ho detto non credo l'ho condiviso su un altro gruppo questo pensiero mi sa e c'è questa cosa che mi turba ovvero che quando all'inizio ero un blogger alle prime armi scrivevo di quello che mi capitava qualcun articolo si posizionava qualcuno no non mi andava a far troppe domande scrivevo perché mi piaceva farlo e niente avevo un'illuminazione scrivevo un articolo senza senza pensare a parole chiavi cazzi vari no poi cosa è successo che ho iniziato a occuparmi della seo e di conseguenza ho capito che deve esserci un filo logico dietro ogni singolo articolo e dietro ogni gruppo di articoli no perché se tu vuoi raggiungere un obiettivo devi posizionare tanti articoli bla 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 e questo mi ha spinto a capire che scrivere articoli essere un blogger avere un blog che fa soldi non è non c'è non so ecco quanto ci sia di creativo in tutto questo perché alla fine della fiera tu devi andare là a partire da quello che vuoi a studiare la concorrenza vedere gli articoli per le chiavi scrivere articoli di conseguenza su quello che loro offrono su quello che google vuole in cui e quindi quello che mi fa un po strano è il fatto che tu non hai più oggi scrivi un articolo cosa ne so sui guadagni che si hanno vendendo foglie bagnate no cioè quello lo fai se è tutta una struttura alle spalle che vuoi parlare di guadagni vendendo non so foglie morte no e allora inizia a fare tutti quel tipo di articoli ma scrivere un articolo così a sé stante non ha molto senso a livello di posizionamento quindi tutta la creatività che avevo sta un po scemando e questo un po mi dispiace però d'altra parte mi piace un sacco perché perché quando tu hai una struttura e la procedurizzi basta quella cioè io ieri ho scritto tre articoli perché perché sapevo benissimo come come dovevo fare avevo fatto tutti i miei puntini ho scritto una struttura dei tre articoli e sono andato semplicemente a collegare i puntini con delle linee scrivendo il contenuto dell'articolo cosa impossibile se per ogni articolo avessi tuttora l'ispirazione capire di cosa parlare vedere perché parlare ma invece se questi articoli tra l'altro sono tutti collegati tra loro tu riesci ad andare a linkarli anche quindi scrivi uno ti viene un'idea per un altro eccetera eccetera quindi è bello appunto è bello perché è molto orientato alla produttività cioè tu devi spegnere il cervello e fare quello che devi fare basta dall'altra parte è brutto perché non c'è la creatività però è un po come essere un lavoratore dipendente no se vogliamo proprio vederla così tu quando vai al lavoro cosa fai fai quello che ti dicono di fare e spegni il cervello quando finiscono l'attore ve ne esci contentissimo ecco è un po così nel senso tu fai quello che ti dice di fare la tua esperienza e la tua ricerca su google spegni cervello lo fai e poi alla fine riattivi il cervello e vedi i risultati al sul lungo termine quindi questa cosa qua è appunto penso che per ora mi sta più piacendo che non piacendo alla fine la creatività chi se ne frega se poi l'obiettivo che raggiungo è quello e quello che vogliono cioè alla fine creatività richiede molta più energia per essere espressa e spesso magari non ce l'hai neanche un giorno non ne voglia cosa fai non scrivono devi scrivere quindi è un problema mentre avere la una cosa più meccanica è anche più predittibile la predicibile vabbè insomma più prevedibile ecco quindi questa cosa qua sono contentissimo se così magari fatemi sapere anche su gruppo telecom se avete delle idee o se vi è successo in qualche periodo della vostra vita di vedere che avete facevate delle attività creative però vi chiedevano molte energie poi le avete trasformate in attività meccaniche quindi abbandonando poi la creatività ma dando più da fare a livello di procedurizzazione e avete visto che avete svoltato perché producevate molto di più con molta meno energia vabbè facendo un trade off sulla creatività ma vabbè non ci può stare nel senso alla fine siamo qua per fare soldi e se quello che serve è questo facciamolo nel senso a me piace lo stesso diciamo che lo vivo come un gioco nel senso che la buona vecchia gamification se tu vivi le cose come una natura di coglioni non verrà mai niente di buono io ho iniziato a viverlo come un gioco vero ok sono un investigatore che devo andare a cercare come scrivere un articolo bene perfetto vado trovo tutti gli indizi quindi leggo gli articoli vado su google cerco di capire la tendenza e poi le chiavi eccetera come è la ricerca e quando ho trovato tutti gli indizi bon ho le prove ho l'indiziato per un articolo che devo andare a scrivere poi lo scrivo ma vai scrivere ormai è diventato abbastanza una cosa di appunto solo di mettermi là e farlo tra l'altro uso anche jasper per darmi una mano per dei paragrafi quando mi sono quando sono bloccato uso jasper che è uno scrittore di intelligenza artificiale e gli dico guarda mi serve un paragrafo che parli di questa cosa qua lui me lo spande mi spande la mia idea io da là vado a trovare le mie idee quindi in realtà non copio mai i suoi contenuti però li uso perché mi danno una spinta quando mi impantano su delle cose che non che non riesco più a fare quindi questo anche veramente bellissimo ragazzi procedurizzare 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 sono giacomo migliorare in cinque anni ci sentiamo domani ciao ciao